aggiornamento di calciomercato inter molto importante dopo la nomina del presidente del nuovo consiglio di amministrazione siamo dentro la fase operativa ci parte ora con il mercato dell'inter una giornata quella di oggi e dopo le basi dell'estate all'inter prima di tutto Andrea Zanchetta è arrivato in sede il prossimo nuovo allenatore della primavera a prendere al posto di Christian Kivu e poi nel momento in cui sto registrando stiamo ancora aspettando l'arrivo dell'agente Tullio Tinti procuratore tra gli altri di Simone Inzaghi per il vertice che getterà diciamo le basi o anzi i dettagli finali più che altro di questo rinnovo di contratto del tecnico Inzaghi ormai praticamente sul rettilineo finale ingaggio da circa 6 milioni e mezzo di euro con una durata ancora da definire 2026 con opzione per il 2027 o direttamente 2027 dopo questo vertice ne sapremo di più e poi nei prossimi giorni arriverà l'ufficialità di un accordo che comunque è alle battute finali appunto e in questo vertice si discuterà di questo della situazione dell'allenatore poi rimandato l'incontro per discutere delle strategie di mercato se ne parlerà nei prossimi giorni ma nel frattempo l'Inter si sta muovendo diverse cose si stanno sbloccando e allora in questo episodio di oggi a grande richiesta facciamo un po' di ordine e facciamo il punto con le principali notizie del momento condensate in pochi minuti in questo format sempre molto apprezzato qui su Passione Inter ben ritrovati e ben ritrovati amiche e amici di Passione Interisti vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno allora tutto parte dal rinnovo di Inzaghi innanzitutto dal vertice che ci sarà con la dirigenza ma in particolar modo dalle cessioni perché l'Inter con Taremi e Zinischi ha già messo due puntelli forti in questa rosa verranno annunciati a breve con il deposito dei contratti e l'annuncio ufficiale e quindi adesso bisogna piazzare degli elementi in uscita per creare quel tesoretto che servirà per andare a investire sulle lacune di questa rosa e allora sono ore molto importanti per la situazione di alcuni giocatori che non sono nel diciamo al centro del progetto Inter che quindi possono fruttare questo tesoretto a partire per esempio da Oristanio che ha fatto una stagione molto buona ad eccezione del periodo sfortunato dell'infortunio al Cagliari sembrava che il Cagliari potesse andare a riscattare per 4 milioni di euro il cartellino del giocatore in realtà il riscatto in questo momento si sta allontanando ma il Cagliari vorrebbe tentare di tenerlo magari a delle cifre più basse con l'Inter che ha l'opzione poi per poterlo riacquistare nelle prossime ore si capirà se da Oristanio potranno arrivare quei 2-3 milioni di euro con l'Inter che manterrà un'opzione per il riacquisto che serviranno per andare a ulteriormente arricchire un tesoretto che dovrebbe prevedere l'ingresso l'incasso per il cartellino di Agumet che invece appare verso la cessione il Siviglia può riscattarlo per 8 milioni di euro circa ma c'è possibilità che venga venduto attorno ai 5 si sta trattando c'è l'ipotesi dello stesso Siviglia ma anche altre società interessate ma soprattutto oltre ai vari calciatori in prestito magari non di primissimo piano come quelli che appunto abbiamo citato ci è stato nelle scorse ore un incontro molto importante nella sede dell'Inter con un intermediario che lavora molto con il mercato turco in particolar modo con il Galatasaray che ha incontrato la dirigenza Nerazzurra in questo incontro si è discusso di più di un nome c'è chi sostiene che si sia parlato anche di Radu il portiere che rientrerà dal Barnemouth l'Inter vuole cedere a titolo definitivo abbiamo riscontrato abbiamo raccolto un po' di informazioni anche nelle ultimissime ore da quello che sappiamo noi da quello che ci viene detto in realtà si sarebbe discusso in modo particolare di Joaquin Correa che rimane ampiamente in uscita e alla porta per l'Inter ma mi dicono anche che si è discusso di Marco Arnautovic qualcuno sta smentendo in queste ore i contatti per Arnautovic verso la Turchia ma da quello che risulta a noi in realtà si sarebbe discusso anche di questa possibilità appunto Arnautovic Arnautovic su cui però si sono riaccese secondo altre indiscazioni anche le sirene della Fiorentina Fiorentina che ha annunciato Palladino in panchina al posto di italiano che è andato al Bologna Arnautovic che era finito nel mirino della stessa Fiorentina a gennaio quando poi invece sono andati su Belotti della Roma Belotti tornerà alla Roma la Fiorentina andrà a rivoluzionare probabilmente il reparto di giocatori offensivi Palladino un giocatore di riferimento centrale da quello che sappiamo lo vorrebbe e quindi Arnautovic è un'ipotesi da tenere d'occhio soprattutto perché la Fiorentina potrebbe riaprire i discorsi anche per Valentin Carboni se ne sta parlando già da qualche giorno avevamo raccontato qualcosa già anche la scorsa settimana anche qua la Fiorentina aveva provato a prendere Carboni che è di proprietà dell'Inter e arriva dal prestito al Monza dove appunto è stato allenato da Palladino che stravede per lui ma lo ha gestito facendo di fare anche un po' di panchina però Palladino crede molto nel potenziale di Carboni e quindi potrebbe ulteriormente spingere su questo interessamento la Fiorentina ci aveva provato con un'offerta da quasi 20 milioni di euro adesso potrebbe tornare alla carica con l'Inter che però chiede circa 30 milioni di euro questa è la cifra di partenza per l'attaccante esterno offensivo argentino stavo tra l'altro ascoltando in queste ore una trasmissione argentina si sta parlando molto di Valentin Carboni in ottica futura per la nazionale l'Inter sarebbe disposta di fronte a questa cifra a cedere il talento classe duemilacinque la Fiorentina è un'opzione se arriverà a queste cifre sulla spinta magari anche di Palladino quindi con Carboni e probabilmente Dunfriss l'Inter in questo momento sta pensando di andare a costituire il tesoretto più ricco quello più importante con cui andare poi a investire sulle altre operazioni quindi sono loro due in questo momento i principali indiziati dico Dunfriss per il quale attendiamo a breve un vertice con il dirigente credo che in un modo o nell'altro il futuro di Dunfriss si deciderà un po' più avanti visto che c'è di mezzo anche l'europeo però l'Inter vuole avere le idee chiare prima dell'europeo e quindi ci aspettiamo un incontro all'interno del quale si discuterà di nuovo con l'entourage del giocatore che aveva chiesto tanto per il rinnovo di contratto circa 5-5 milioni e mezzo di euro ai tempi a novembre dicembre che hanno raffreddato e congelato ogni trattativa cifra francamente elevata per un giocatore che ha un po' perso anche il posto a titolare nell'Inter e andrebbe a guadagnare quanto un bastoni per dire quindi che ha un ruolo decisamente molto importante nell'Inter poi c'erano stati dei segnali di una possibile riapertura secondo alcuni da parte di Dunfriss a delle cifre più basse a me questa cosa non risulta risulta sempre una trattativa complessa complicata con uno scenario abbastanza delineato se non si raggiunge un accordo per il rinnovo di contratto Dunfriss entrerà nell'ultimo anno di contratto visto che scade nel 2025 e quindi è probabile che l'Inter farà tutto il possibile per andare a piazzarlo per andare a cederlo e da quello che filtra è soprattutto la Stonevilla in questo momento la società interessata la società che potrebbe quindi mettere sul piatto la cifra che l'Inter vuole incassare per Dunfriss e con queste entrate quindi con questi incassi si andrebbe poi a finanziare come detto il mercato in entrata con una serie di priorità da quello che continua a risultare a noi da quello che vi dico da settimane in questo momento in attesa degli sviluppi dei prossimi giorni e di magari novità o svolte sul mercato per l'Inter c'è una priorità che è rappresentata dal portiere e quindi dal secondo portiere ma un secondo portiere che confidano di far poi diventare il primo portiere nel prossimo futuro cioè andare a individuare un vice Sommer che poi prenderà il posto dello svizzero e il nome caldo è sempre quello lo abbiamo detto più e più volte da mesi e continuiamo a ribadirlo è Bento dell'Atletico Paranaense su cui purtroppo l'abbiamo raccontato col passare del tempo si stanno provando ad inserire altre società ci sono delle voci addirittura sullo stesso Liverpool che vorrebbe affiancare il nuovo Alisson proprio al vero Alisson per raccoglierne poi l'eredità eventualmente anche se al momento parte dietro l'Inter rimane in una posizione di vantaggio da quello che ci risulta è un affare comunque da una ventina di milioni di euro quindi una cifra molto importante con delle complicazioni da tenere d'occhio però l'Inter rimane calda su questo profilo allo stesso tempo si valutano chiaramente anche delle alternative cioè Joseph Martinez del Genoa portiere molto interessante credo abbia un anno in più se non sbaglio rispetto a Bento ha una valutazione elevata sì ma con il Genoa c'è possibilità di trattare con delle formule vantaggiose e c'è anche la disponibilità comunque del Genoa accedere perché una cessione molto probabilmente dovrà farla di uno dei suoi big quindi Martinez può essere l'indiziato nelle scorse ore vi dicevamo attenzione perché ci sono comunque anche altri nomi che l'Inter sicuramente sta monitorando in particolar modo Sky ha lanciato il nome di Okoye portiere dell'Udinese che quest'anno ha preso il posto di Silvestri un po' più per disperazione perché Silvestri ha fatto una stagione sicuramente molto molto negativa Okoye è portiere con un potenziale interessante voglio approfondirlo ancora un po' di più prima di esprimere un mio parere totale ricordiamo che con l'Udinese l'anno scorso l'Inter stava già imbastendo un'operazione creativa per rilevare Lazar Samaric potrebbe replicarsi magari questo affare per il portiere non escludiamo però che possano spuntare anche altri nomi perché appunto bisognerà valutare diversi fattori a tal proposito io faccio anche una domanda prima di andare poi ad altre notizie e lo chiedo a tutti voi è giusto secondo voi andare ad investire un bel tesoretto sul portiere in questo momento è una priorità secondo voi prendere il portiere in questo momento secondo me come detto se sei convinto del potenziale del portiere su cui stai andando per esempio Bento per me è una grande opportunità da cogliere per farlo crescere poi farlo diventare nel prossimo futuro un portiere titolare dell'Inter e più avanti ancora a materia della player trading per me è una scelta sensata che ci può stare mi trovo d'accordo e nell'ottica di programmazione va più che bene se però devi andare ad investire in maniera importante su un profilo di cui non sei sicuro che possa diventare il tuo titolare nel prossimo futuro io sinceramente ragionerei sulla possibilità di prendere un non dico un tappabuchi ma un secondo affidabile ma che sia puramente un secondo e di lottare quelle risorse su altri reparti perché ad esempio parte Denzel Dumfries sulla corsia di destra se Inzaghi continua a non vederci Buchanan titolare andrà preso un titolare lì sulla destra e ho dedicato un lungo contenuto nelle scorse ore che spero avrete recuperato e spero recupererete se non l'avete già visto e ascoltato in cui ho fatto tutta un'analisi intanto dal punto di vista statistico quale può essere il miglior colpo per sostituire Dumfries ma poi ho fatto anche degli altri ragionamenti perché oltre a individuare un sostituto di Dumfries che possa assomigliare a Dumfries ci possono essere delle soluzioni tattiche differenti con dei giocatori magari più difensivi che permettono quindi a Bissek e Pavarda dietro di alzarsi e di andare a concludere sul secondo palo e di fare quello che fa bastoni a sinistra oppure dei giocatori più alla Di Marco che possono dialogare con il terzo e possono avere delle caratteristiche più da giochista piuttosto che da diciamo da macchina della fascia ci sono varie soluzioni fatto sta comunque che sull'esterno un investimento andrebbe previsto se appunto Buchanan non viene visto in quella zona di campo lì e devi andare a prendere un titolare e quindi puoi fare un upgrade anche rispetto al livello attuale con ogni probabilità fermo restando ecco che se va via Dumfries e va via anche Quadrado potenzialmente ne servirebbero forse anche due a quel punto di esterni destri ma appunto per questo occhio sempre alla situazione Quadrado che l'anno scorso non se ne parlava lo buttavamo lì come battuta poi ce lo siamo ritrovati in squadra quindi attenzione anche alle chance di permanenza di Quadrado oppure attenzione all'attacco soprattutto attacco dove secondo me se interpretiamo le parole di Nzaghi ho detto ci sono due modi per interpretare le parole di Nzaghi o intende avere quattro attaccanti ma che siano quattro molto forti tutti affidabili potenzialmente tutti titolari oppure l'altro modo più letterale di intendere le sue dichiarazioni è voglio cinque attaccanti in questo senso l'ipotesi cinque attaccanti con Arnautovic di turno che finirebbe fuori dalla lista Champions sembra uno scenario complicato in questo momento lo scenario più diciamo più probabile o almeno su cui si ragiona più concretamente è quello delle quattro punte dove Arnautovic come detto ci sono delle ipotesi di uscita da tenere d'occhio secondo me si farà il possibile al di là di quello che viene detto per farlo partire e quindi poi per andare a sostituirlo probabilmente con un giocatore non con le stesse caratteristiche di Arnautovic quindi di prima punta da centro area ma più scardinatore più qualitativo più di dribbling probabilmente quindi si è parlato molto di Gudmundson non necessariamente Gudmundson secondo me sarà un capitolo che si aprirà più avanti nel corso del mercato e che terrà conto anche di quelle che sono le opportunità che si presentano sul mercato appunto quindi dipenderà da come evolverà la situazione del mercato però l'obiettivo secondo me è questo dopodiché ulteriore aggiornamento su passioninter.com vi abbiamo riportato nelle scorse ore una indiscrizione esclusiva abbiamo saputo di un interessamento da parte di club dei Premier League per Cristian Aslani quindi ci sono gli occhi della Premier League su Cristian Aslani e un emissario in modo particolare lo monitorerà durante l'europeo quindi a partire già dalla sfida contro l'Italia con la sua Albania ma non solo ci saranno gli occhi della Premier League puntati su Cristian Aslani con l'ipotesi Brentford in questo momento da tenere d'occhio ma non è l'unica pista quindi occhio a Cristian Aslani che nelle ultime ore nella nostra ultima diretta ha scatenato un bel po' di commenti perché tanti tifosi si sono divisi alcuni dicono alla giusta cifra si può vendere e si può sostituire con un giocatore più pronto all'interno dell'Inter io invito a tenere in considerazione anche il fatto che nella lista Serie A fa comodo perché è un under 22 quindi in Serie A non occupa slot in lista Champions sì e ha un costo abbastanza contenuto in rosa tra ammortamento e ingaggio quindi non occupa molto da quel punto di vista in questo preciso momento però è anche abbastanza evidente secondo me che nel cambio Cialanoglu-Aslani quindi titolare su alternativa c'è un dislivello abbastanza importante per quello che abbiamo visto fino ad ora quindi io credo che spetterà soprattutto ad Inzaghi fare delle valutazioni approfondite su quanto crede in Cristian Aslani su quanto margine di crescita vede ancora davanti ma soprattutto su quanto lo vede in vista di questa stagione al posto di Cialanoglu una partita importante manca Ciala metti Aslani Inzaghi si fida sì o no questo secondo me sarà uno dei temi già l'anno scorso c'era stato un'ipotesi di cessione in prestito con la possibilità di puntare su un profilo più pronto non se ne fece nulla per vari motivi dopo due stagioni di Inter secondo me le valutazioni saranno fatte in maniera ancora più approfondita ricordando anche che comunque è un ruolo delicato è un calciatore ancora giovane visto che è un 2002 e altri altri giocatori che oggi sono al top in quel ruolo lì alla sua età facevano tutt'altro ed erano in altri contesti questa è una cosa che abbiamo detto più volte quindi nei commenti fatemi sapere un po' voi che ne pensate per il resto qualche settimana fa avevamo dedicato un approfondimento al tema di un nuovo colpo alla BISEC l'Inter ragiona sulla possibilità di ingaggiare un altro profilo con quelle caratteristiche lì quel contenuto che avevamo fatto è ancora oggi assolutamente diciamo aggiornato e credibile perché ci sono ulteriori conferme non abbiamo ancora scoperto esattamente il nome ma l'Inter sta facendo delle valutazioni la possibilità di andare ad ingaggiare un giocatore con quelle caratteristiche lì cioè di giovane non ancora esploso da prendere da dei campionati magari non conosciutissimi o comunque non non un giocatore in mostra già in vetrina da poter poi valorizzare all'interno della rosa fatemi sapere che ne pensate voi se siete d'accordo con queste priorità del mercato vi ricordo di recuperare il nostro contenuto sull'erede di Doomfries che ha scatenato una valanga di commenti sono curioso di leggere anche i vostri nel club di Passione Inter su www.passioninter.club stiamo preparando un altro approfondimento molto interessante quindi vi invito ad entrare a far parte della nostra community e vi lascio con un altro contenuto che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui sull'erede di